E lì lo scelto è il risultato, quindi non ho bisogno di una persona per cedere un numero da entrata, poi se c'è qualcuna persona, nessuno, sette, 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 sette e questo qui è il tipi più chiaro di un numero, quindi questa prima cifra, seconda cifra e terza cifra del primo numero è sette e come si fa, qualcuno può dire come facciamo sette qui in dettaglio, il primo numero ti dico è uno che bisogna connettare qui, perché questo è due alla potenza zero, quindi prima cifra e la seconda è sì o no? aspetta, 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 vediamo, qualcuno? Sì? Ah sì, bene, quindi uno più due, ci sono numeri tre qui meno per quattro è sette? Più quattro, esatto, grazie, grazie adesso il secondo numero, qualcuno? Cinque, grazie, grazie, per fare cinque il mucchio nero qui, cosa ho bisogno? tre buono, quattro? Uno? Il primo sì o no? Sì? Sì, grazie, uno? Troppo facile questo, quello che vuol dire, uno, e adesso chi l'altro ha bisogno? Quattro qui, bene, due no? adesso se facciamo 7 più 5 chi numero diventa? 12 quindi il risultato se ogni di questi sono una cittura al final chi deve cadere? 1 e 2 1 e 2 per fare la sola? 8 e 4 8 e 4 quindi 8 e 4 giusto? benissimo quindi l'altro non è un canale ma dove sei così? non è un canale non è un canale attenzione attenzione 3 2 1 allora ok allora è un canale Grazie. Grazie. Grazie.